Ciao a tutti ragazzi qui Frost, non voglio rompervi le balle più di tanto volevo soltanto dirvi che questa sera dalle 6 e mezza alle 7 e mezza quindi per un'oretta saremo sul canale di ragazzi di RSA Italian Community perché volevamo fare un hangout tutti assieme su YouTube in modo tale da parlare con voi e rispondere alle vostre domande detto questo ci vediamo questa sera, ciao ragazzi e buona giornata